Come se? Pagliari, a freddo, a freddo! Oh, mia violetta! Oh mia violetta! Gioia! Colpevolno sono, sono tutto cara! Non so che crede, non so che sai! Questo palpito siate a me impara Senza desistere che non potrei! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie.